Salve a tutti! Eccoci qua! Dunque, abbiamo oggi un ospite particolare, infatti il nostro Radori7 proviene da un suo canale dove parla di cose a caso, spiegaci cos'è. Anche c'è la rubrica cose a caso che per chi la giardista non è nulla di nuovo perché è un po' che è iniziata, ma per chi non lo sapesse semplicemente prendo appunto cose a caso che mi capitano sotto l'occhio e faccio vedere piccole descrizioni. Cose a caso che non sono padelle, ma... Esatto, beh, comunque inerenti al canale che sono o giochi o manga. Anche se l'ultima volta ho fatto, c'è un prusagli di calcistiche, però c'era un gioco di mezzo. E visto che lui fa video sui manga, comunque, o un beat, e bla bla bla. E io pure, oggi... Abbiamo uno speciale... Casa sua, ma è serie mia. Esatto, quindi messi insieme a Rayfall e a Radori vi mostreranno... Cose a caso speciali. Con un caso speciale, con un... Quindi non è, se non lo dire, non è una cosa tanto a caso. E che io l'ho trovata a caso, quando siamo andati oggi... Ed è stata comperata subito. Subito, appena. Ma quella è ordinata... No, allora la prendo io. Mi dispiace? Fallo salire il pantalino. Weekly Shonen Jump edizione del 18 marzo originale. Ancora incartato. Numero quattro oggi. È ancora incartato, quindi lo scartiamo adesso. Non abbiamo mai avuto uno Shonen Jump tra le mani. Questo è il retro. Abbastanza spoglio. Ma la copertina è una cosa... una figata assurda. Allora, prego a te l'onore di aprire, visto che lei è tu. Allora, non sapendo che cosa ci sia dentro... E io non mi ricordo che cosa è uscito più o meno il... 14 marzo, anche perché... È vero che questo è il numero del 14 marzo... Traccia pur di aprire. E cazzo. Ok. E credo che comunque in Giappone, cioè... Da quello che ho capito, se non ho capito male, il giorno che escono gli spoiler qui in Italia è perché già sono qua dentro. Quindi... Non credo che questo raccolga quelli della settimana precedente. Non so che manga troviamo... Non so che manga troveremo, però... Speriamo in manga... Eh... Piano... Andiamo piano... E da oggi pomeriggio a luna che... Lui sta sbavando... Adesso sono le sei e mezza e... Da cinque ore sta sbavando... Ok, facciamo vedere al pubblico la prima pagina... Beh... Vabbè, la prima è... C'è Goku che... Ancora pubblici, si fanno la pubblicità sui giochini di Dragon Ball... A Goku che c'è un uvetto... A forma di sfera del Dragon... È una tazza, che figata! È una tazza? La voglio! È vero! È una tazza... PONTA c'è scritto! PONTA! PUNTA! Credo siano 300 euro! Ecco, allora, chi è affascinato di Bezebub... Verrà schizzo... Questa è la prima... Scusarei se ti può... Prego, prego... È molto più importante... Giampa più importante... Esatto... La terza e quarta pagina sono una cosa... Pubblicità... Sembra essere pubblicità... Questo lo conosco... Cioè, l'ho già visto... Mostriamo quello che stiamo vedendo giustamente... Ecco... Se è pubblicità... Vedete qua... Vedete, non so... Se qualcuno conosce gli anime... Barra manga... Ce lo dica... Sì, ancora Goku... Ancora Goku... Altra pubblicità... Io direi di prendere una pagina a caso... Anche perché... Questo qui è ijikata di... Subicizzano l'accentive di ijikata di... Initama... Ah, ti devo sapere... Allora... Non pensavo che fosse così voluminoso... È una cosa veramente grandiosa... Cose a caso, quindi... Prendiamo... Eh, te lo subito... Sulle ultime pagine... Prendiamo una pagina a caso... Questa... Dai... Boh, vabbè... La gazzetta dello sport... Quindi abbiamo una pagina rosa... Con delle scarne... Di non so quale manga... Assolutamente... Ma sono effettivamente... Disegnate... Bene... Dai... Un bel disegno... Un bel tratto... Abastanza... Avvicinati... Bisognerebbe capire... Sempre scritto... E soprattutto... Sapere di che cosa si tratta... Poi... Oddio... Non è che ci spoileriamo qualcosa... Che stiamo seguendo... Senza i capitoli... Ma... Ma io credo di no... Tanto non capiamo un caso... Esatto... Quindi è tutto il giorno... Poi... Altra pagina a caso... Credo che sia lo stesso manga di prima... Sì... Perché siamo andati avanti di poche pagine... È sempre... Ah... C'è l'odore... Profumo di giornale... Sì... C'è l'odore... Sì... C'è l'odore... Oh mio Dio... Oh mio Dio... Guardate questa... Ma che... Cos'è... No... Vi prego... Allora... Tutti gli iscritti... Di entrambi canali... Ma chiacchi... Chiunque stia guardando questo video... Se sapete... Qualsiasi cosa... Sulle pagine che stiamo spogliando... A meno che non becchiamo... One Piece... Per dire... Però... Di informatici... Abita... Beh... E' lui... E' lui... E' uscito... E' Bleach... Eccolo... Guardate... No... Beh... Questo è Bleach... Scusate... Guarda... Allora... Questa è... One Piece... Medaka Box... Ah... Sì... È un po' tutto... Sì... A meno che... Aspetta... Se questo è Bleach... E qui c'è Bleach... Vuoi vedere che nelle pagine successive... Ci staranno anche gli altri... Allora... Un attimo... Medaka Box... Non lo voglio vedere... Se non mi spoilerò... C'è... Dai... Esci fuori... Queste pagine sono enormi... Io non pensavo... Che fossero veramente così grandi... O non c'è One Piece... Vabbè... Non può guardare... Pazienza se non c'è... No vabbè... Pazienza se non c'è... Pazienza se non c'è One Piece... Abbiamo jump tra le mani... Non possiamo lamentarsi... Se non c'è One Piece... Per la cronaca... 15 euro... Si... 15 euro... Gli hanno portato... Un po' a... Abbiamo... Non lo dire... Non lo dire... Non lo dire... Un po' dopo... Ok... Guarda che abbiamo... Stiamo ancora... Guarda che abbiamo... Guarda che abbiamo... Guarda che abbiamo... Sì... Sì... Zitto... Ma cosa si sta facendo... Grandiosa... Abbiamo anche una... Un insetto... Allora... Aspetta... Con questo ve lo facciamo vedere... Aspetta eh... Guarda che abbiamo... Guarda che abbiamo... Che bello... Lo so che è solo una pubblicità... Ma io sono contento... Guarda che... Tu lo avrù... Lui è contentissimo... Il suo tu lo avrù... A parte che c'è il mio amore... Ah... Questa qui è la pubblicità... Allora... Dunque... Vi descrivo rapidamente... Questa pagina... Pratica... No... No... È un disastro... È una Bibbia questa cosa... Allora... Questa qui sarebbe la pubblicità... Del DVD... Speciale... Che dovrebbe uscire... Perché insomma... Assieme alla serie anime... Di Tu lo avrù da... Il secondo DVD... Perché il primo è già uscito... Però c'erano gli episodi speciali... Sì... Quegli un po' cuffa... Con Mikan... Con il cuore in testa... Scusate... Appello a tutti quelli che vedranno il video... Ma non è la più bella del... Cioè... Io vi giuro... Lei è capitata nel manga sbagliato... Perché se ci fosse stato un manga solo per lei... Ce sarebbe stato... Poi cosa abbiamo? Pubblicità di un posterone... Che io se... Alla fumetteria li riprenderanno... Ogni tanto escono questi posteroni... A parte che... Di là c'è One Piece... Lo stiamo ignorando... Però escono questi posteroni enormi... Di To Love Root... C'è l'ultimo che è uscito di Mikan... Che è... Per alto... Diciamo... Era su 1,50... E largo 76... E questa... Bellissima action figure di Momo... Che... Magari ne parlerò in un video più avanti... Ma a me mi sta pesantemente sul cazzo... Però... E beh... Cioè... Momo è molto molto bello... Mol... Momo è una... Nell'ultimo capitolo... Di cui forse farò un video... È veramente veramente bella... Tu Love Root... Che bello... Eh... Però Tu Love Root esce una volta al mese... Quindi prima che becco il capitolo... Hai perso quei due segni... Di finire... Tanto lì... E tant'era dopo questa... Allora... Lassalo per dopo... Io li metterei prima con l'altro... Sì... Ah sì sì... Ah beh... Non mi... Perché... Una cosa stranissima che mi sta succedendo... Almeno a me... Non so a te... È che mentre li guardo... Sì... Lo riconosco... Che è un... È un manga... Ma a prima vista... Guardate qua... Guardate questa... A prima vista... Non si riconosce... Vero? Facciamo fatica a riconoscere... No... Io ti giuro... Quando prima ho visto questo... Che tutti sappiamo cos'è... Un attimo... Non capivo che era questo... No... Loro non lo sanno... Cazzo... Mai capito che capitolo è... Capiamo beccato... Eh... Vabbè... Vabbè... Ormai avete capito... Però... Allora... Intanto... Vi facciamo vedere... Sono questi... Un'immagine bella... Dai... Dai... Da Goku... Ancora... Basta... Basta... Goku... Che rossi di palle... Ok... Goku... Ha preso il sopravvento su Shonen Jump... Ma andiamo con questo... Spoiler... Naruto... Spoiler... Spoiler... Vabbè... Un po' vecchio... Dai... Ok... Che bella... L'abbiamo peccato... Perché... Allora... Naruto... Va in pausa ogni tanto... Io dicevo... Sta a vedere... Che è la settimana... In cui sono andati tutti in pausa... Invece no... Invece no... Anche perché... Dell'altro... Abbiamo... Dell'altro... Una chiccona... Perché... Non sai quanto cacchi... In video... Ah... Un attimo... Un attimo... In crossover che stanno facendo... Dai... Diamo di questa pubblicità... C'è su Shonen Jump... Di praticamente... Quasi un mese fa... Uscirà... 4-7... Aspetta... Prima... È uscito ieri... Sì... Ah... Ieri... Il giorno del mio compito... Che bello... Ho anche tu... Lo Bruno... Ha fatto un po' Un regale... Sì... Io ancora... Devo capire... La nostra fortuna... Sfacciata... Ci ha permesso di prendere... Aspetta... Qual era l'immagine più bella e significativa di tutto... Beh... 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 Io andrei su... Questa... Dai... Questa... Guardate che capitolo abbiamo... Ragazzi... Abbiamo... One Piece... Capito la... Settecento... Che culo... Che culo... Ti fai... Sfoglialo... Ti prego... Sfoglialo... Ma andalo avanti... Ma avanti per carità... No... Aspetta... C'era quest'altra immagine molto importante... Occhio l'aveva subito... Vai... Eh... Scusate... E' tornato il frutto... Ecco... Il nostro frutto di Mera Mera... E' tornato il frutto... Basta... Era finito il capitolo qui... Beh... Sì... Era anche su... Ah no... C'era i giornali... La gente che leggeva i giornali... Allora indietro... Quello è diamante... Pezza... Qui siamo nello spoiler più assoluto... Ma è di una... A proposito... Scusatemi eh... Assurda... Una domanda che a me mi frulla in testa... No... No no no... Avanti... No ti ricordi che nello sfondo di sta riunione c'era uno che somigliava ad Apu in maniera... Però non è Apu perché Apu era di un'altra parte... Vabbè... Facendo... Eh... No io volevo l'immagine con la gente che leggeva i giornali... Beh... All'inizio... Eh... All'inizio? Eccoli qua... Eccoli... Tutta la gente che legge i giornali... E quindi abbiamo Gimbe... Crocodile... Absalom... Credo fosse questa la venita di Absalom... Vabbè... Kid che... Bonney... Bonney che mangia... E quindi niente... Abbiamo trovato... Il capitolo... Il capitolo... Alla cazzo totale... Alla cazzo totale... Il capitolo 700 di One Piece... Sei un mostro di fortuna... Quindi non è... Non mi far vedere Metacabox per favore... Ehm... Coggio comprati i 10... Eh... Allora Goku... 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 Quarticolo del solo... Comunque... Vabbè... Adesso... Senza... Senza esagerare... Senta lunga... Anche perché tanto noi adesso... Ci do guardiamo... Lo riguardiamo... Lo riguriamo... O ne 10... Ehm... Ma è comunque... C'è un sacco di pubblicità... Dentro... Sciomentata... Beh... Normale... Anche perché... Tanto è una delle riviste... Piaggia... Il nuovo... E poi scusa... Il nuovo... Di gioco di One Piece... Ehm... Praticamente... Adesso non l'unica... Ma una delle riviste... Più lette in Giappone... Di... Dei manga... Ehm... Siccome... Tanti capitoli spoiler... Più o meno escono... Gli stessi giorni... Sì... È normale che la pubblicità... Si concentra tutta sulla stessa rivista... Infatti guarda che volumone... Io mi immaginavo che ne so... Una rivistina... In stile italiano... No beh... Magari un po' più rosa... Sì... Ma non gli davo più di quelle 50 pagine... No... Questa quante ne avrà? 300... Beh... Beh... Ma è proprio grosso... Cioè... Ma è grosso... Un vero buon moso... Prendiamo... Vado a vedere... Oh scusa... Vado a vedere... Ma vabbè... Ma ne hai già tu... Massimo... Io vado a prendere... Scusate... Quanto è grosso... Ecco... Anche da sfogliare... Insomma... Ma... Per dire... Che quando ti prendi un manga... Cioè... Che per carità... In Italia... Li fanno bene... Però... Piccolina così... La vignetta... Apri questo... Una vignetta enorme... Esatto... Quindi metà manga è una vignetta... E quindi... Il che è... Molto positivo... Adesso attendiamo Radori... Il nostro Michele... Sì... 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 No... Ma il fatto delle cose a caso... È stata doppia oggi... Non volendo... E... Questo io non so che manga sia... Però vedo che c'è una bella azione... Ah... Sì... Vedo... Due... Un bel tipo di azione... Aspetta... Lascia che devo dire... Questa... Vai... Oddio... Vai... Ecco... Conoscete... Sapete cos'è? Comunque se conoscete qualsiasi manga... Che abbiamo fatto vedere... Fatecelo sapere... Ma... Per amor di... Di curiosità... Di conoscenza... Sì... Sì... Proprio per curiosità vogliamo saperlo... Anche perché... Tu possiedi adesso... Una Weekly Shoney Jump... Ma il fatto delle cose a caso... Almeno sapere cose a contenuto... Delle cose a caso... Questo sembra... Eh... Cosa... Vergo di signato... Comunque no... Il fatto è che... Nelle cose a caso... Abbiamo non volendo preso il numero 700 di One Piece... Che è strano che non ci sia nella copertina... In copertina... Ma non ti dico... A quanto pare pubblicizzano più le novità piuttosto che... Bell the Boob qui c'è scritto che è il quarto anniversario... E mi sta bene che abbia la copertina... Ma almeno un... Anche perché... Comunque uscirebbe anche il 700 di One Piece... Cioè ce lo scrivono... Dietro hanno messo... Una... Due tipi in bicicletta... Vabbè ma dietro è una pubblicità... Esatto... Però almeno un trafiletto... Vabbè ma forse c'è scritto... E sembra che non lo capiamo... Magari... Anche questa scritta grossa intorno al... Ed esce anche il 700... Se vi interessa... Comunque questo era... Il nostro... Speciale... Fortunatissimo... Fortunatissimo... Abbiamo preso la pescata fortunata... Di cose a caso... Perché abbiamo preso l'ultimo che era rimasto... E gli erano arrivati vari... Ma non una copertina... Certo... Vari e vari numeri... Quindi ho preso questo... Che nessuno ha già acquistato... Tutto quanto... L'abbiamo preso... Abbiamo scoperto che era il capitolo 700... Quindi noi avevamo foro di non trovare per niente... One Piece... Ebbene... Riappressi il capitolo... Il più meglio... Sì... E quindi... Niente... Stanto è seriosificato... No... No... Non lo so... La porta si sta prendendo... Chiudendo in continuazione... E niente... Quindi... Noi vi salutiamo... A questo punto vi salutiamo... E niente... Siamo molto contenti... Veramente tanto... Soprattutto lui... Vabbè ma anche tu... Io dai... È nostro... È nostro... Alla prossima... E niente... Sì... Ad un prossimo video... Ciao ciao... Ciao...